quindi sta prendendo le misure devo cambiare il disco? ragazzi ho fatto avanti e indietro perchè dobbiamo tagliare a 20 centimetri questa pietra per la piscina si abbiamo già caricato la macchina e quindi siamo in cammino oggi comunque guardate che bel sole, c'è un traffico pazzesco siamo a san petro no? si chiama qui? saluta? sta già guidando la macchina gundusir e niente ragazzi è primavera no primavera posso dire di più di primavera estate fa caldo traffico e noi ci andiamo a Faiscais per porre la pedra qui c'è un collegio ecco fatto un'altra volta un'altra volta intravolati comunque ragazzi non faccio più l'autista perché c'è già capace di conduzir questa è la tappa abbiamo fatto rifornimento di diesel che casino è qui un venditore di macchine 25.000 euro 25.000 euro qui ragazzi qui ragazzi è Faiscais shopping è un secondo centro commerciale grande importante un polino al vento un polino al vento che belluccio ragazzi questa è la vetra ciao sono io e viene messa e viene messa si è capito bene qui viene messa no? dove? adesso cominciamo ragazzi a fare il suo manco e poi 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 entrambi qua si deve pulire là sotto perché ci sono residivi la pietra non incassa bene la pietra non è in casa la prima pietra la prima pietra il dedo non fare qui non è in fondo per il dedo 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 il dedo